Il giorno libero di Maya Mamma, aspetti! La voglio dormire! Ok! Beh, certo! Oh, sì! Anch'io, anch'io! Tesoro, lascia che ti asciughi tutta l'insoddisfazione dalla faccia! Mamma! Mamma! C'è mancato poco! Ricca versus povera! Mamma! Mamma! Controlliamo! Sto sognando! Non so fare mai niente! È ora della mia routine mattutina! Cominciamo con la crema di lumache! Che cosa? L'aloe vera è la mia preferita! Mamma! Sì, tesoro! Le mie creme sono finite! Non preoccuparti, tesoro! L'aloe vera è la preferita di Maya! Regali dalla natura! Perfetto! Sdraiati, tesoro! Chiudi gli occhi! Ok! Grazie, mamma! È ancora fresco! La mamma si arrabbierà! Tovaglioli è la cosa migliore dopo il pane a fette! Povero succo! Non devi sprecare il succo! È costoso! Ecco! Sul serio! Beh! Ah, che sede! Cosa ti piacerebbe? Fragola? Arancia? O limone? Arancia? No, limone! Ho sentito che è salutare, ma... Questo! Ecco qua, signorina! Ops! Nessun problema! Pulirò io! Fatto! Grazie! Mamma, i soldi! Certo, tesoro! Sì! Cento euro! La fortuna è dalla mia parte! Li metterò sul mio conto corrente! Risparmio per i momenti più bui! Per i dolci! Potrò comprare tanti dolcetti adesso! Sì! Non ho mai visto niente di simile! Ma sono miei! Li ho trovati io! Ora sono nostri! Per le bollette! Aspetta! Cos'è stato? Il diario di Maya! Oh, vediamo! Oh, che dolce questo ragazzo! Chi è? Justin, 14 anni! Altezza 1,75! Mamma! Svirtila! Oh, cosa abbiamo qui? Ecco! Oh, interessante! Abbracci! Baci! Ti amo! Mamma, cosa stai facendo? Ehi, restituiscimelo! Chi è Kyle? Non ce la faccio più! Voglio una vita diversa! Questo, 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 questo e anche questi! 5,25 euro! Uno, due... Ecco cosa mi serve! Torno subito, tesoro! 5,25 euro! Scusa! Tu mi assomigli! Tu assomigli a me! Vuoi fare a cambio? Sì, facciamo a cambio! Wow! 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 Vieni, tesoro! Andiamo a casa! 1,500 euro! Oh, quanto? Oh, mio Dio! Oh, fa niente! Tieni il resto! Vieni, tesoro! Oh, wow! Oh! Oh, wow! Non ho mai visto nulla di simile! Oh, quella sono io! Oh! 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 Che cos'è? Wow! Non l'ho mai provato prima! Oh! Wow! Cosa sono questi? Wow! Oh, è stupefacente! Tu! Stia solo più attenta! Grazie! Ops! Mamma! Possiamo guardare un film, per favore? Va bene, amore! Spegni le luci! Che cos'è tutto questo? Tenterò la mia fortuna! Il suo drink, signorina! Tutte le unità, in soggiorno! Ops! Passo allarme! Sono sicura che è questa! Wow, è meglio di un film! Oh, sì! Sul serio? Cosa posso fare con questi? Ci sono delle nuvole all'orizzonte! Non ti sei bruciata! Non è abbastanza caldo! Hai fame, tesoro? Sì! Ti preparo qualcosa! Cosa posso fare con te? Oh! Wow, come hai fatto? E abbiamo ancora del cibo per la settimana prossima! Svegliati, tesoro! Devi andare a scuola! Oh, sì! Non voglio andare a scuola! Diventerò rossa! E qualche goccia di sudore! E la mia mossa caratteristica! E il tocco finale! Supercato! Funzionerà! Mamma! Non posso andare a scuola! Cos'è successo, mia cara? Aspetta! Sei una bugiarda! Ti faccio vedere io! Prendi questa medicina! Non sono più malata! Vado a scuola! Hai dimenticato lo zainetto? Oh, mamma! Mi manchi così tanto! Vorrei tanto poter sentire la sua voce! Ah, la chiamerò! Sai dov'è il caricabatterie? Non hai bisogno del caricabatterie! Ecco! Oh! Wow! Pronto? Pronto? Oh! Mammina! Oh! Sei tu! Facciamo a cambio! Oh! La mia vita è tornata! Ciao! Mamma! Mi sei mancata tanto! Mammina! Mi sei mancata! Mancata? Ma se sono sempre stata qui! Ecco le mie Barbie tutte allineate! Peccato che non mi piacciono più le bambole! Soprattutto Barbie! Qui ci metterò il mio calendario! Così saprò quando arriverà la mia nuova sorellina! Finalmente! Cosa? Ehi! Questa è la tua nuova sorellina! Buon divertimento! Ma mamma! Voglio una sorella vera, non una bambola! Oh! Non mi piace! Oh! Ciao! Sono la tua nuova sorella! Oh! Non è possibile che la mamma mi abbia regalato una Barbie come sorella! Io desidero una e-sister! Vuoi giocare? Oh! Mi hai spaventata! Guarda! Ti faccio vedere! Qui ci sono tutte le mie cose! E tutto ciò che ci potrebbe mai servire! Tieni! Prendi! Oh! Ma so cosa mi sono seduta! Un ragno! Vattene via! Ora ti elimino io! No! No! Non esiste! Preso! Rilassati! Lui è il mio animale domestico! Cosa? Davvero? Perché non l'hai detto prima? Wow! Ai! Che dolore! Lascia che ti aiuti! Eh? Cosa hanno i tuoi piedi? Sono storti! Li aggiusterò io! Non riesco! Anche se faccio così! Hai fatto? Fai silenzio! Buongiorno, mondo! Mi sono scordata di struccarmi ieri sera! Buongiorno! Sul serio! Ciao, Barbie! Ciao, Barbie! Guardatemi tutti! Sono Barbie! Sono perfetta! Cosa è successo? Ai miei vestiti! Ehi! Ti ho comprato dei vestiti! Rosa! Non voglio indossarlo! Penso che sia ora di diventare creativi! Voglio che questo maglione sia più di tendenza! E per riuscirci avrò bisogno di un po' di vernice rossa e nera! Mettiamoci al lavoro! Che bel colore! Verrà benissimo! Finalmente! Ora sì che sto meglio! Ehi, sorella! Ti ho preparato la colazione! Finalmente! Ma plastica! Fai sul serio? Dov'è la mia colazione? Che bontà! Mangia! Che dobbiamo andare! Ma che fai? Avanti! Mangia la tua colazione! Ho bisogno di cibo, vero? Delizioso! Scommetto che non l'hai mai assaggiata! Ti piacerà, vedrai! Apri la bocca! Ma non sai fare proprio niente! Devi chiudere e aprire la bocca! Poi devi ingoiare il cibo! Dunque, che ne pensi? Che buona! Ne voglio ancora! Ho creato un mostro! Ehi, Maya! Divina! Il mio stomaco sta per scoppiare! Ti aiuterò io! Oh, eccolo! E adesso cosa devo fare? Devi spingere! Spingi più forte! Spingi! Ok! Sì, proprio così! Oh, credo di diverciandola anch'io! Sbrigati! Non posso più trattenerla! Beh, non era così difficile! Mi sento molto meglio! Sbrigati! Non posso più resistere! Oh, mi ricordo a una discoteca! Mi viene voglia di ballare! Stai bene? Ho fatto! Togliti! Oh, ma quanta carta igienica! Ti aiuterò io! Per prima cosa rimuoviamo la carta igienica! Come appiccicosa! Ora spazzoliamoti i capelli! Forza! Forza! Più caccole! Io voglio solo il tuo gel per capelli! Trovato! Perfetto! Ora mettiamoci all'opera! Così dovrebbe essere sufficiente! Ora devo solo massaggiarlo sul tutto il cuoio capelluto! Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ma non è gel per capelli! Che sta succedendo? Niente! Fa niente! Niente che una parrucca non possa risolvere! Eccoti qui! Oh! Wow! Sei stata veramente brava! Grazie! Ho un regalo per te! Un regalo! Evviva! Ecco a te! Una macchina! Wow! Finalmente potrò correre in una gara di velocità! Che figo! Finalmente il mio sogno si è avverato! Esattamente! Ecco a te! Oh! Ma cos'è? Una macchina giocattolo! Ti pareva? Ehi Maya! Guarda un po'! Wow! Cosa sta succedendo? La sto testando! Si è rotta! Ops! Non va affatto bene! Falla smettere! Barbie! Santo cielo! Fermati! Ragazze! Ma è tutto in disordine! Ciao mamma! Ma che cosa sta succedendo? Ops! Pulite la vostra stanza! Adesso! Ops! Puliamo! Puliamo! Inizierò dal letto! Metterò tutto sotto al letto! Fatto! Sta venendo bene! Oh! Le cose che piacevano a Maya! Wow! Vi meritate di essere esposti in bella vista! Starete qui! Ci piace! Ora voglio attaccare questo poster! Non posso credere che tu non l'abbia mai attaccato! È così cupo qui dentro! Questa camera sta iniziando ad essere più bella! Voglio che sia tutta rosa! La mamma ne sarà entusiasta! Molto meglio! Dove dovrei mettere questa bara? Ho un'idea! Non lo so! Wow! Barbie, cosa stai facendo? Ecco! Tutto fatto! Che ne pensi? Ma cosa hai fatto? No, no, no! Cosa hai fatto? Ora ti faccio vedere io! Non voglio una camera tutta rosa! Devo fare subito qualcosa! Ah, teschio! Mi aiuterai tu! Occhio! Wow! Cos'è successo? Ora il mio lato è proprio come piace a me! Molto meglio! Direi che abbiamo trovato una soluzione! D'accordo! Siamo una bella squadra! Oh, una notifica! Ken! Ma cos'è? È Barbie Land! Vogliono che torni a casa! Devo andare! Cosa? Ma sei mia sorella! Oh, ma certo! Saremo sempre sorelle! Ma io devo tornare a casa mia! Non mi scorderò mai di te! Addio, mondo reale! C'è puzza qui dentro! Wow! Cos'è questo posto? Oh, ciao Ken! Che ci fai qui dentro? Io sono Timmy! Spostati! Wow! Che posto magico! Wow! Non sono più nella casa dei sogni! Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Ok! Ciao! Chi sei? Che schifo! Assomiglia alla mia bambola! Incredibile! Oh, è Barbie! Dovete assolutamente vederla! Wow! Esiste davvero! Wow! Guardate le sue scarpe! Wow! I tuoi capelli sono fantastici! Wow! Sei così bella! Controlliamo sotto la gonna! Scusate! Devo andare! Ma Barbie! Aspetta! Non puoi andartene Barbie! Smettila di seguirmi! Prendetela! Oh, credo di essermi persa! Vieni qui! Ciao, Ken! Tieni questa! Oh, credo che sia qui dentro! Hai visto Barbie? No, mi dispiace! Cosa? Diamo una pulitina! Quanto è sporco! Ci è mancato poco! Veramente? Mi mancano i miei vecchi vestiti! Wow! Molto più carina, vero? Ascolta, dobbiamo davvero darcele da qui! Presto! Forza! Ehi! Dov'è Barbie? Che gentiluomo! Resta qui, ok? Ok! Wow! Ciao, amico! Che donna pazza! Ehi! Cosa stai facendo? Ehi! C'è qualcosa di strano! Vediamo! È una specie di poltiglia marrone! Solo cioccolato! Troppo divertente! Li abbiamo seminati! Ma dovresti comunque nascondere! Rimani immobile, ok? Non abbiamo molto tempo! Ehi, fratellino! Sono a casa! Ehi! Che succede? Cosa l'hai fatto? Dimmi, giochiamo! Andiamo! Preso! Barbie senza testa! Senza testa? Magari un'altra volta, ok? Bene! Ma tu sei il prossimo! Ha qualche problema! Via libera! È stato terrificante! Devo chiamare un medico! Un medico? Non c'è nessuno! È pronto? C'è nessuno? Ah! C'è qualcosa di bello in tv? Ultime notizie! Questa sera, una Barbie in carne e ossa è stata vista alla La Lae High School! Se avete informazioni su di lei, vi preghiamo di chiamare il numero sottostante! Cavolo, sei finita in tv! Quindi sei davvero... Eh, sì! Barbie? In carne ed ossa! Ed ecco il mio taxi! Ciao! Aspetta! Non puoi entrare in quella cosa! È troppo piccolo per te, forse? Non funziona! Barbie, andrà tutto bene? Voglio andare a casa! Aspetta! So come tirarti sul morale! Mi manca la casa dei sogni! Cosa ha questo odore? Wow! Un profumo fantastico! Adoro la frutta! Potrei annusare questa roba tutto il giorno! Wow! Deliziosa! Non sono più triste! Ho preso una pizza! Cosa stai facendo? Vuoi assaggiarne un po'? No! Ho del cibo vero! Interessante! È formaggio? Pazzesco! Che bello! Aspetta! Devi morderla! Puoi masticare! Mordere e masticare? Oh wow! Non ho mai assaggiato nulla di simile prima d'ora! Sono in paradiso! Nuoto nella salsa di pomodoro! Più formaggio! Oh sì, per favore! Questa è la cosa più buona del mondo! Barbie? Wow, è così buono! Non voglio smettere mai più di mangiare! Ancora di più, di più! Cosa? Ma ne ho mangiato solo un pezzo! È stato incredibile! Oh, cos'è successo al mio stomaco? Mi sento come se stessi per scoppiare! Mmm, noi la chiamiamo gravidanza da cibo! Niente paura, ti aiuterò io! E cos'è questo? E come si usa? Devi spingere! Spongere? Oh ok, penso che stia funzionando! Wow! Barbie? Hai finito? Ora è tutto a posto! Wow, hai fatto la cacca! Ok, non importa! Ho una sorpresa per te! Pronta? Wow, guardate tutti questi vestiti! Questo è il paradiso! Ed è tutto rosa! Incredibile! Voglio provare tutto! Il primo! Un set rosa! Perfetto per la spiaggia! Prendila! E che dire di questo di seta? È favoloso o no? Ho forse qualcosa di più sportivo! Che ne pensi? Mamma mia, che noia! Immagino abbia trovato qualcosa! Ancora? Sta proprio facendo shopping! Oh, direi che basta! Da questa parte! Oh, ciao ragazzi! Non avete tanto da dire, vero? Che maleducazione! Ma mi avete fatto venire un'idea! Sarà divertente! Barbie, dove sei? Che strano! Barbie? Mi hai trovata! Guarda qui! Mettiti in posa! Ecco! Ok, mi hai beccato! Forza! Ok! E ora è il momento di pensare a delle scarpe nuove! Siediti! Ti troveremo delle scarpe in men che non si dica! Dai, falle vedere! Vedi qualcosa che ti piace? Wow! Sono carine! Il tacco alto! No! Queste sono meglio! Fidati di me! Prova! Forza, entrati! So che ci starà! Sono un po' più in là! Non so se sono del mio numero! Forza! Attenzione! Per poco! Dammi queste! Mi hai quasi ucciso! Ma grazie per l'acquisto! Contanti o carta di credito? Costosissime! Non preoccuparti ci penso io! Contanti, per favore! Sì! Ciao! Ciao! Che bella coppia! Aspetta un attimo! Questi sono i contanti di Barbie! Non posso crederci! Mi hanno derubato la luce del giorno! Ma il culo chiami la polizia! Aiutatemi! La mia vita è finita! Casa dolce casa! Che pomeriggio divertente! E ora? Dipende da quanti soldi ho! Oh sì! Ti farò una sorpresa! Una sorpresa? Ehi! La luce! C'è qualcuno in casa? Chi c'è? E cosa sono quelle luci? Ehi! Oh! Aspetta un attimo! È quella della bambola senza testa! Oh! Povera Barbie! Aspetta! Ce ne sono un sacco! Che orrore! Oh no! Non permetterò che mi succeda! Una palla! Oh! È la sorella di Timmy! Ciao! Proprio così! Ciao Barbie! Giochiamo! Barbie! Sono a casa! Ma che... Passami lo zucchero! Mmm! Timmy! Sei tornato! Ti unisci a noi? No! Grazie! Va bene! Posso giocare all'aperto? Sì, certo! Grazie! È stato divertente! Assolutamente! Ci vediamo! È cambiata molto! Ciao! Oh! Guarda! Ho lasciato le sue Barbie! Oh! Ciao Barbie! Ciao Ken! Allora! Guarda un po'! Cosa? Benvenuto nel mio mondo! Oh! Ma guarda che tipo! È bellissimo! E io gli ho detto! Dammi la palla! E boom! Sono meglio di lei! Devi solo vedermi! Cosa? Barbie? Ciao Ken! Scusa Barbie! Ma a me piacciono le sirene! Andiamocene! Ah! Gli piacciono le sirene! Cos'ho io che non va? Cosa? Le mie gambe? Ma certo! Deve essere colpa loro! Eppure so di poterlo conquistare! Ma come farò? Se vuoi essere una sirena! Devi avere una coda! Oh! Spero solo non faccia male! Ma hai ragione! Facciamolo! Per prima cosa devo mettermi queste pinne! Si avvicinano un po' a una coda! Ora mi serve un po' di nastro adesivo! Devo avvolgerle! Bene! Ora ho bisogno di qualcosa di scintilla! Prego questi! Ah! Questo non va bene! Ma questo è perfetto! Mi servono le paillette! Più ce ne saranno, meglio verrà! Come luccicano! Fatto! E tu? Via! Ora sì che sto bene! Ora hai bisogno di un bel reggiseno! Un reggiseno! Va bene! Ma cosa posso usare? Forse questi fiori! Proviamoli! No, non credo vadano bene! Ma cosa abbiamo qui? Dei pezzi di rivista! Anche no! I miei peluche? Di nuovo no! Oh, come posso fare? È così difficile! Oh, mi piace questo cuscino! Ora lo provo! Perfetto! Perfetto!